cari miei amici buongiorno buon caffè facciamo caffè nel induzione 12345 veloce facciamo ecco questo caffè si fa nel induzione ma volevo precisare una cosa molto importante perché mocca quelle di alluminio non funziona qui bisogna comprare quella apposta per induzione fa sempre bialetti ma qui di sotto sotto qui c'è una specie di ferro ci vuole ferro una semplice di quell'alluminio non va infatti io oggi ci si può trovare molto facile ma due anni fa non stato facile io per primo anno ha avuto un pochino pochino diciamo un problema come fare caffè qui ce l'ho bar sotto casa andavo ogni tanto la però abbiamo comprato questo qua primo anno se qualcuno non lo sa vedete questo questo qua ecco questo qua questo qua questo che cos'è è un diciamo un rondo chiamiamo così un rondo di ferro che si mette qua si mette qua sopra ecco si mette qui sopra e se voi non avete tutti i pentoli per induzione ma oggi ci sono tutti questo funziona mettete questo qua sopra pentola e va induzione va induzione è mio amore mio amore io consiglio proprio tutti tutti guardate com'è bello come bello come bello come bello qui non calda per niente è così oggi bella giornata bellissima ho visto macchina che pulisce giardino poi non ho pensato che si è spenta non si è spenta non si è spenta apriamo qua e vediamo qui che cos'è indovinate che cos'è vediamo ecco qua dolci di domenica quello che ho fatto domenica è rimasto solo questo pezzettino domenica mio compagno assaggiato pezzettino ieri assaggiato pomeriggio anch'io con lui comunque domenica non è oggi quarto giorno e si finisce questo dolce perché a casa noi non abbiamo biscotti non abbiamo nessun dolce così qualche gelato ogni tanto estate soprattutto e volevo dire questo non dovete avere problemi di pentoli perché pentoli già anche dieci anni hanno tutti tutti adatti per induzione guardate io ce li ho pochi pentoli questi qua non pensavo di fare vedere però vi faccio vedere per esempio questa ultima pentolino per scandare qualcosa abbiamo comprato da poco che c'è quindi qui c'è vedete questo segnale questa spera spirale spirale questa qua significa che per induzione poi un giorno ora si vede poco un giorno devo parlare meglio perché forse tanta gente interessata interessata a a induzione e non lo sa come funziona poverino anziano va così solo e c'è questa maschera sul sul viso quando cammini e non c'è intorno nessuno leva questa mascherina e giovani ecco almeno aperto naso questo qua giovani aperto naso ma vedo qualche persone che camminano così con proprio non respirano ma sei uscito fuori c'è la bella aria ma respira 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 niente ho fatto 5 caffè qui ho fatto 4 vedete 4 4 facciamo uno di più ecco 5 sta uscendo sta uscendo ma bisogna abbassare perché 5 è troppo io insolito insolito faccio 4 piano piano 5 5 è troppo vedete com'è oi 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 che bello profumo sta uscendo fuori questo non serve questo coso bisogna abbassare ora oi 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 bisogna abbassare se non ora faccio disastro ora sì 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 bene che profumo meglio buon caffè cari miei amici un bacio a tutti un bacio particolare a tutti i miei nuovi iscritti che sono molto molto felice di avervi sempre di più buona giornata a tutti da anna toscana